Ciao a tutti ragazzi, riaccomi qua, sono Megateaker e come vedete oggi qua davanti a me c'è di nuovo il protagonista assoluto dei controller fino ad oggi ebbene si sto parlando di Elite 2 che guardate che bello, lo conoscete già, se mi seguite sapete che l'ho promosso uno dei miglior controller anzi in realtà è sempre spuntato come il miglior controller utilizzo PC e utilizzo Xbox ma ahimè avrà del filo da torcere dal Thrustmaster che presto porterò in recensione ad ogni modo oggi non sono qua per parlare delle caratteristiche di questo controller ma per fare un piccolo restyling per rinfrescare con degli accessorietti della Scaf il nostro controller nella fattispecie come vedete anzi leviamo un attimo la plastica se no non vedete nulla eccoli qui ho preso delle palette sostitutive e sagomate diversamente da quelle originali sono la Scaf vi dico già che il materiale è metallico molto molto carino hanno una curvatura particolare io sono molto curioso ovviamente di andarle a provare sono venuto a conoscenza di queste palette tramite una soffiata di Pietro anzi ti saluto Pietro ti ringrazio di aver mele fatte conoscere sono venuto poi a conoscenza anche di quest'altro accessorietto che sono di fatto delle levette sostitutive non sono dei control freak ma sono proprio delle levette intere o meglio c'è la parte cilindrica metallica che va sul magnete e poi la testa gommosa adesso vi dirò la sensazione sul grip di queste levette e andremo anche a presentarla sul nostro bel controller inizierei proprio da questa parte quindi andando a sostituire quelle che sono le levette del nostro Elite 2 le ho scelte di colore verde per rimanere in tema Xbox ma vi ricordo che ci sono anche altri colori la dotazione come vedete consta in 4 levette e a far sì di convincermi a prenderle è proprio stata questa mezza misura come vedete ce n'è una lunga ce ne sono due corte come l'originale presumo ma poi c'è questa che è appunto una via di mezzo che dovrebbe assolutamente fare al caso mio andiamo un attimo a fare un paragone con quelle originali mettiamo le vicine bene sì queste qua sono quelle assolutamente identiche come altezza e andiamo un secondo a prendere dallo scatolone la nostra lunga la nostra misura lunga quella che io non so mai mai riuscito ad utilizzare perché appunto mi sembrava troppo lungo vedete come alza l'analogico di fatto io così non mi ci trovo bene dovrebbe invece averne fatta una leggermente più bassa andiamo a vedere dovrebbe essere questa qua e come vedete anche se pur di poco alza quella normale ma senza di fatto arrivare a quegli eccessi di quella originale lunga questa altezza già così prendendo il controller in mano alla veloce mi sembra un'altezza ideale ma poi c'è anche la possibilità di andarne a mettere un'altra ancora più lunga non quanto anche questa quella originale e anche in questo caso direi che è piuttosto utilizzabile ricordo comunque che queste cose sono cose assolutamente soggettive poi magari arriva quello che mi dice io mi trovo molto bene con quello originale ma guardate la più alta della scaf comunque rimanere sotto all'altezza di quella originale per fare un paragone sul grip sinceramente voglio rimettere la sua originale e vi dico che indubbiamente il grip offerto dalle scaf è maggiore rispetto a quello offerto dagli analogici originali questa parte centrale è molto molto liscia molto scivolosa di fatto il grip è quasi offerto da questo scalino che vedete mentre qua invece nello scaf già la plastica la gomma anzi di per sé è molto più gripposa diciamo e poi anche qua comunque c'è lo scalino a aiutare a tenere la levetta in mano sinceramente avrei creduto comunque che fosse ancora maggiore il grip non che non lo sia anzi assolutamente mi piace a sensazione ma avevo recensito da un po' di tempo questi qua che erano i control freak originali per DS4 e la sensazione beh insomma il grip su questo è ancora maggiore io mi aspettavo da scaf diciamo una mescola più simile a questo che non a quello che in realtà appunto è ad ogni modo confermo ancora il grip c'è e c'è un aumento sostanziale dalle levette originali non se le fanno però pagare poco una scatoletta così con questi 4 analogici di fatto costa 25 euro lo comprati su Amazon io beh credo che sia un po' esagerato ma se avete la smania e la voglia di aumentare il grip e non avete voglia di metterci dei control freak tipo questi questa qua sicuramente è un'opzione più che valida riponiamolo in attimo nella vaschetta ed invece andiamo a prendere quelle che sono le palette della scaf per andarle a sostituire nel nostro Elite 2 eccole qua le palette originali che comunque fanno il loro porco lavoro mi piacciono molto ma effettivamente usarle tutte e quattro è molto difficoltoso molto difficoltoso perché le dita di fatto vanno a fare interferenza vedete come arrivo qua con il medio che già mi schiaccierebbe tutte e due le devo tenere un po' più avanti e poi fare questo giochetto per andarla a schiacciare oppure utilizzare questo ma ad ogni modo è tutto abbastanza affollato infatti in game io ne levo una e ne utilizzo solo tre diciamo che la parte la mano sinistra è quella che io uso meno agevolmente con la parte destra sono un po' più bravo quindi con queste riesco a utilizzare due dita di qua invece ne utilizzo solo uno vado quindi a togliere tutte le palette fortuna che come vedete questo sistema di ancoraggio è veramente rapidissimo e andiamo a sistemare quelle della scaf mentre inserisco mi sembra che restino leggermente più alte delle altre sono ve l'ho detto molto curioso di vedere come sarà l'effetto io ci credo poco che saranno utilizzabili tutti e quattro ma andiamo a girare il pad in diretta vi dico come sono e come sono raggiungibili eccomi qua in realtà ho interrotto la registrazione ed è un po' che sto smanettando con queste levette per darvi quella che è la mia impressione ovviamente andrà anche provato in game perché poi il risponso è sempre in game ma sulle prime vi posso dire che le palette davanti effettivamente offrono una presa migliore cioè questa conformazione fanno sì che il dito ci si incassi proprio e venga azionato il tasto in maniera sopraffina la parte dietro non so se dalla ripresa lo vedete è più corta delle levette originali e quindi il dito questo qua sopra il mignolino mi va meno in interferenza vedete che ce l'ho appoggiato stringo il controller ma quasi non schiaccio la paletta questo non per dirvi che sia agevole utilizzarla ma di fatto almeno essendo tronco qua mi interferisce meno con questo dito il bello di questo sistema è che come vedete è modulare nel senso che io posso anche decidere di provare a montarle al contrario provare a toglierne una metterne una più corta di sotto o di sopra insomma avete varie possibilità di andare a configurare un layout che venga bene alla vostra presa come ho sempre detto l'utilizzo di due palette sotto in questi sistemi è sempre il più agevole quindi potrete anche decidere di utilizzare solo due tasti e la scelta come vedete ricade su una levetta più corta che potete mettere in alto e in basso una levetta un po' più lunga che anche essa potrete mettere in alto e in basso sul responso se comprarle o meno ma sono abbastanza dubbioso diciamo che se dovete utilizzarle tutte e quattro le quattro originali si utilizzano meno bene delle quattro della scaf se come me invece volete andare a usarne solo due ebbene sì io quasi quasi vi consiglierei anzi senza il quasi quasi vi consiglio di tenere quelle originali e disporle sul controller come più vi piace anche qui come in altro caso io prediligo la levetta corta meno ingombrante molto raggiungibile rispetto di questa lunga diciamo che le palette lunghe dell'elita a me non è che piacciono granché come comodità prima di lasciarvi ho voluto fare un'altra pausa sono andato in game ho montato tutte e quattro le levette e sinceramente vi confermo la sensazione iniziale quattro levette sebbene siano della scaf sono poco utilizzabili vanno comunque molto in interferenza il dito è lungo e le clicca tutte e due bisogna quasi forzatamente tenere l'indice più alto e le altre un po' così ballerini qua sopra un po' che lievitano sul controller insomma non è la condizione ideale per il gioco secondo me però se vi ostinate se volete comunque ostinarvi a utilizzarle tutte e quattro e imparare a utilizzarle tutte e quattro beh in questo caso effettivamente la scaf col fatto che sono un po' più corte offre un migliore sistema come piccola contraindicazione c'è il fatto che con le levette della scaf come vedete il controller resta rialzato su quelli che sono gli spinotti del caricabatterie il caricabatterie è comodissimo vi ricordo estraibile ma di fatto anche se vado a metterlo sulla scrivania mi resta il controller alzato e quindi non viene caricato dovrete di fatto per caricarlo andare a togliere ogni volta le palette e i paddle da sotto di fatto non un grossissimo problema ma sicuramente una cosa che vale la spesa tenerla in considerazione ragazzi mi sono dilungato anche troppo quindi che dire vi lascio con le immagini di questo bel controller chittato con le mie belle levette della scaf se devo essere sincero consiglio più le levette che i paddle dietro a meno che ripeto per l'ennesima volta non vogliate usare quattro paddle insieme per questo video è tutto vi ricordo sempre di registrarvi lasciare il like in modo da far girare i miei video andate poi in descrizione a vedere tutto quello che ho da dire ci sono i link il codice creatore mega ticker per fortnite qualora foste giocatori scioppatori compulsivi sostenetemi tramite i miei link messi in descrizione in modo che io possa riuscire a portare più contenuti possibile sul canale e se vi fa piacere ragazzi andate anche a dare un'occhiata ai link degli youtuber amici chissà che non troviate anche lì qualche video interessante che vi possa far comodo vi ringrazio per la visione questo è tutto qua ai mega ticker e ciao